Stiamo vivendo un momento storico veramente, veramente incredibile. Ora la fase della crisi di governo è finita e proverò tramite questo video a riassumervi brevemente i rischi nell'immediato, i rischi che sta vivendo il nostro paese, il nostro continente e che purtroppo molti concittadini italiani sono veramente all'oscuro di queste informazioni. Sono però fiducioso, sono convinto che i giornali e le telefinzioni nei prossimi mesi dopo la caduta del premier, dopo la caduta del capo dei capi di Super Mario Boss finiscono quella fase di slinguazzate continue e che possano concedere insomma un pochettino di informazione non tanta, non esagerate, anche perché gli italiani non sono vaccinati a sapere proprio tutta la verità che ci aspetta ma qualcosa in più rispetto a quello che sta accadendo. Guardate ragazzi, lo faccio in maniera molto semplice, vi faccio sentire le parole della Wonderlion dell'altro ieri che ci dice tutto, ci dice tutto il contrario di quello che dicevano i ministri, che si diceva in Italia che ci raccontava la propaganda delle telefinzioni. Poi parliamo di quello che sta accadendo, l'allarme che sta arrivando dalla Cina e ancora una riflessione fondamentale di come è messo il nostro paese e come sarà messo a pecora nei prossimi mesi rispetto alle decisioni prese dalla BCE dalla Banca Centrale Europea sul anche il nostro debito pubblico e come di fatto l'Italia ora in questa fase rischia di essere totalmente commissariata. Qualcuno di voi mi dirà, vabbè ma siamo già commissariati, aspettate perché siamo messi da male in peggio le condizioni dettate dalla BCE ieri che a sorpresa ha tirato fuori queste carte sono importanti da inquadrare. Partirei direttamente con le parole della Wonderlion che in sostanza ha avanzato una proposta di riduzione immediata del 15% dei consumi che per l'Italia corrispondono a 8 miliardi di metri cubi in sostanza la Wonderlion ci dice tagliamo già adesso, iniziamo a risparmiare gas il 15% adesso in modo che possiamo superare la nottata, in modo che possiamo stare un po' più sereni in questo autunno e inverno i dati sono centralizzati, ovviamente ce li forniscono loro, sono quelli ufficiali per tutti e comunque la vogliamo pensare, queste sono le decisioni che stanno cercando di prendere immediata riduzione del 15% dei consumi, l'Europa deve prepararsi a un'interruzione totale dei flussi della Russia ora c'è stata la ripartenza del Nord Stream ma la Wonderlion dice guardate che Putin ci può chiudere il gas dalla sera alla mattina in realtà non dice tutta la verità, ovviamente abbiamo capito ormai come funziona cioè Putin reagisce a delle decisioni che l'Unione Europea e l'Occidente ha preso nei suoi confronti ma ormai su sta roba qui, insomma, chi ha capito ha capito, chi non ha capito insomma, pace dell'anima sua, andiamo avanti, stiamo sui fatti e i fatti sono questi, vediamo quello che dice la Wonderlion e questo è per la prima volta la nostra sicurezza energetica a un livello europeo 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 che sono più oltre da altre risultate e che sono ovviamente più vulnerabili da altri risultati a un livello europeo ma tutti i livello europeo si avarano i conflitto di soli di una giustazione di una macchina per il livello europeo questo è por Il motivo It is important that all member state are ready to share gas with the other neighbors in case of need. Energy solidarity is a core principle of our treaty. I know these are testing times. I am confident that we can master this Russian engineered energy crisis by staying together. Morale, facciamolo subito. Partiamo subito, no? Rispetto a quello che diceva Draghi, siamo messi bene, io non ci sono allarmi, tutto a posto, con gli stoccaggi, stiamo accumulando, stiamo accumulando. Cioè, dei due, per quanto mi riguarda, le parole di uno hanno il peso delle parole dell'altro. Però quello che mi interessa nella comunicazione, nell'informazione, nella consapevolezza che portiamo all'interno di questo canale è sapere che una riduzione dei consumi e delle condizioni, dei razionamenti, hanno delle conseguenze a livello aziendale, no? È semplice, su un'azienda di trasporti, solo per dire una cosa stupida, ha una conseguenza l'aumento del costo della benzina su un'azienda di un altro tipo, no? Cioè, a proposito, molti di voi lo so che magari non siete pronti a fare questo scatto, io lo vedo tra i miei amici, no? Venire su Telegram, molti continuano a utilizzare WhatsApp, le abitudini, ma lì c'è una comunicazione veramente spassionata, c'è un amore di informazioni che, insomma, che ve lo sto a dire, audio continui tra di noi, discussioni all'interno delle chat. Quindi l'invito che vi faccio qua una volta, se ancora non l'avete fatto e non avete dimestichezza, venite su Telegram, sul nuovo canale e soprattutto anche per chi è già lì, attivate le notifiche. Perché siamo già, credo, oltre i 16.000, adesso non ricordo, iscritti, ma molti si sono iscritti a palla, ma non hanno attivato le notifiche. Ma se non attivano le notifiche, poi magari ti arriva una botta complessiva di informazioni e non è il massimo. Invece cerchiamo di calmerarla, di tenerci aggiornati il giusto all'interno di una giornata e soprattutto continueremo a farlo anche in agosto, in maniera continuativa, roba che non garantisco accada su YouTube e su Facebook. Quindi se mi vedete che sono sparito, come è normale che sia in periodi, tanto My Draghi è andato, ci sarà un'informazione, magari spizzichi e bocconi, ma di là ci sarà un'informazione continuativa, tutti i giorni. Il secondo rischio che voglio affrontare con voi è quello che arriva dalla Cina. Tenetevi forte perché vi voglio parlare delle decisioni della BCE. Allora voglio leggervi brevemente qualche frase riportata dal Sole 24 Ore di ieri e il titolo è Cina cresce l'allarme sui porti per i possibili effetti dei test di massa. Un nuovo lockdown, una legge su Shanghai, primo porto al mondo per traffico di container. Un ennesimo fermi tutti preannunciato dai test di massa che hanno già messo in preallarme gli operatori marittimi. Perché voglio andare su sta roba qui? Perché qui all'interno di questo canale abbiamo insistito parecchio, un bel po', su quelli che sono stati i danni causati dai lockdown, dalle chiusure, sugli approvvigionamenti. C'è stato un blocco e poi un'apertura, un liberi tutti, che ha creato tutta una serie di problemi che hanno inciso anche sull'aumentare dei prezzi. Qui però noi dobbiamo dare per assodato, almeno per questo canale, che l'inflazione non è transitoria. Ma transitoria si intende che non scenderà per i prossimi uno o due anni. Questi prezzi non li vedremo stabilizzarsi. Perché sono le condizioni geopolitiche, macroeconomiche a dirci. Ma comunque questo lo vedrete, insomma, a breve. E non sarà l'aumento dei tassi di interesse a diminuire il valore dei prezzi. Adesso cazzate che dicono i banchieri centrali che sono i manipolatori di fatto e i geli della manipolazione di professione. Quindi ulteriori nuovi lockdown, attenzione perché ci sono anche notizie negative sui porti degli Stati Uniti, causano tutta sta roba qui. Andiamo a leggere un po' di numeri. Da giorni le cancellazioni in calendario sulla tratta transpacifico, transatlantico, Asia Nord Europa e Mediterraneo viaggiano a ritmo sostenuto. Ben 76 le partenze cancellate tra metà luglio e agosto, su un totale di 758 programmate. Quindi stiamo parlando del 10%. Siamo nel periodo, scrivono sul sole 24 ore, più complicato dell'anno e cruciale per il traffico mondiale. Gli addetti ai lavori ne parlano come del periodo in cui gli alberi di Natale devono partire per arrivare a New York in tempo per le feste. Che succederà se stavolta gli alberi di plastica resteranno nei magazzini delle fabbriche cinesi? Ora, a me sinceramente degli alberi di plastica che devono arrivare a Stati Uniti me ne frega relativamente. E anche, credo al sole 24 ore, intendesse fare semplicemente un esempio di quelle che possono essere le ricadute. Ma andiamo avanti. Perché a peggiorare le cose, ci dicono, sono le condizioni meteorologiche estreme sulle coste cinesi, con tifoni che hanno interrotto le operazioni ad Hong Kong, Shenzhen, a Ningbo, credo che si pronuncia così, e nelle prossime settimane, a fronte di 44 rotte, ne sono state cancellate 20. Poi l'articolo va avanti e parla dei problemi che si stanno verificando nei porti del Nord America. Ora, ancora una volta, voi siete liberi di pensare come vi pare rispetto a queste situazioni. Ma dal mio punto di vista dovremmo tenere in considerazione che questi sono i rischi che noi dobbiamo affrontare da qui al prossimo autunno. Ci siamo. Ora veniamo alla ciccia concreta. Perché va bene la crisi del gas, adesso c'è storia la crisi di governo. Ma dal mio punto di vista la prossima crisi garantita è quella del nostro debito pubblico e della possibilità di fatto di passare da un commissariamento attualmente ancora mascherato a un commissariamento reale. Come ho detto in alcuni dialoghi fatti sul canale Telegram, il discorso di Mario Monti era di fatto la riforma del catastro, la riforma delle pensioni. E togliamo sto super bonus e rimodelliamolo insieme al reddito di cittadinanza. Tutta una serie di richieste sembrava un programma elettorale di un presidente che doveva rimanere in carica, scusate, ancora per cinque anni. In realtà lui doveva portare avanti la baracca fino alle prossime elezioni, giusto? A proposito, apro e chiudo parentesi. Previsione beccata per metà. Avevo detto che questo governo sarebbe caduto intorno a settembre e ottobre, il collegamento era ovviamente ai vitalizi dei parlamentari. Invece oggi abbiamo avuto la contezza e certezza, ne parlano pure i giornali come il Sole 24 Ore e Milano Finanza, che anche cadendo adesso il governo, avendo Mattarella stabilito il 25 di settembre come data delle prossime elezioni e essendo il 24 di settembre la data utile a tutti i parlamentari per poter avere le pensioni vitalizi, ho messo sbagliato per metà. Ecco, non avevo fatto questi calcoli. Ma a parte questo inciso che lascia il tempo che trova, la cosa più importante è quello che è accaduto ieri con la BCE. Attenzione, dimissione ufficiale di Draghi, se ne esce la BCE alzando i tassi di interesse da 0,50, questo ci sta, era ora, visto che gli altri banche centrali lo hanno fatto già da un po', così hanno un po' di scusa per dire che fermeranno l'inflazione. In realtà non fermeranno l'inflazione, come vi ho detto poco anzi. Ma la sorpresa qual è? È l'attivazione dello scudo anti-spread, che però scatterà, adesso vi spiego di cosa si tratta, se vengono rispettati quattro criteri da parte degli stati. Quali sono questi criteri? E noi possiamo rispettarli? Lo scudo anti-spread sostanzialmente è che nel momento in cui, come riporta anche oggi il Sole 24 Ore, si legge sul Sole 24 Ore, che è poco dopo le dimissioni di Draghi sui mercati, venivano scaricati BTP a palla. Ecco, nel momento in cui questi contratti, diciamo così, non vengono rinnovati o vengono scaricati, ci pensa papà, ci pensa di intervenire la BCE. Di fatto stiamo parlando di nuova liquidità immessa nel sistema, motivo per cui l'inflazione non scenderà. Fatta questa piccola parentesi, che è quello che è l'anti-spread, lo scudo, Per essere attivato bisogna rispettare, dicevo, quattro criteri. Il rispetto dei criteri di bilancio indicati dall'Unione Europea, cioè praticamente noi siamo fuori da tutti questi criteri, non rispettiamo un cazzo. L'assenza di gravi squilibri macroeconomici, non ne parliamo. La sostenibilità del debito, fate voi, il nostro debito è sostenibile? L'adozione di politiche solide e sostenibili nel rispetto degli impegni presi con il Recovery Fund e con le raccomandazioni specifiche della Commissione Europea. Se si rispettano questi quattro criteri, ripeto, l'assenza di gravi squilibri macroeconomici, la sostenibilità del credito, il rispetto dei criteri di bilancio indicati dall'UE, l'adozione di politiche solide e responsabili nel rispetto degli impegni presi con il Recovery Fund e le raccomandazioni specifiche della Commissione Europea, questo è un commissarimento. E questo conferma anche qui l'analisi che abbiamo fatto con i ragazzi all'interno della mia chat Telegram, i nostri sospetti. Cioè Draghi poteva sembrare ai nostri occhi il primo effettivo commissario europeo del debito pubblico italiano. Ora, però, gli effetti li vediamo immediatamente, perché adesso Draghi non c'è più. Ci siamo divertiti, anche ieri ho fatto un video ironico, che molti di voi ancora non l'hanno capito, l'ironia. Adesso però non c'è più. L'Unione Europea qua ci dice, se volete gli aiuti, dovete fare i compiti a casa, ma soprattutto dovete sottostare alle nostre indicazioni. Di fatto l'Italia è commissariata. Ora, questi rischi, queste condizioni, che di fatto possono portare a forti tensioni sociali, perché? Perché nel momento in cui i mercati ti scaricano, la BCE non ti aiuta con l'antispread, perché tu non stai dentro a questi quattro criteri, tu rischi per qualche mese magari di non riuscire a pagare qualche stipendio. E quindi cosa bisogna fare? L'Italia fallisce? No, l'Italia tranquilli ragazzi, cioè in Italia ci sono tanti poveri, purtroppo la povertà aumenta, ma i ristoranti sono ancora pieni. Cioè nei conto correnti degli italiani ci sono miliardi e miliardi. Gli italiani sono grandi risparmiatori. In rapporto al PIL è un risparmio pazzesco. Quindi ci potrebbe essere in futuro un prelevo forzoso? E quindi ci potrebbe essere in futuro una patrimoniale? E quindi quello che sicuramente ci sarà è il programma che aveva indicato Mario Draghi nell'ultimo suo discorso, riforma del catastro, che vuol dire patrimoniale, riforma delle pensioni. E i partiti politici hanno detto andiamo alle elezioni, perché adesso, dopo le elezioni, ci penseremo noi. E quindi come finirà? Beh, a questo video non abbiamo dato il titolo di come finirà. Come finirà lo vediamo dopo l'estate. I rischi concreti che ci aspettano in autunno.